scusate il breve ritardo ma ci sono quindi buonasera a tutti questa sarà l'ultima diretta su Facebook poi in realtà passeremo su direttamente su Youtube perché da quello che si è capito diciamo che la visuale migliore di conseguenza faremo meglio le dirette su YouTube scusate allora a parte piccoli problemi tecnici ci siamo e allora ieri lo farò meglio questa sera abbiamo visto il verso 15 della grande seguità per farlo meglio volevo solo indicarvi qualche dettaglio in particolare perché abbiamo ovviamente tralasciato dei dettagli tecnici importanti ma proprio per questione di tempo quindi questa sera cercherò di farlo un pochino meglio allora come abbiamo visto il appunto il Vatsara Dauti che è la purificazione tramite l'aria attraverso l'aria sembra semplice in realtà come vi dicevo bisogna prenderci un pochino di confidenza bisogna appunto mettere le labbra a mo' di becco di corvo e bere cioè inspirare l'aria dalla bocca e lasciare appunto che l'aria rimanga nello stomaco per qualche momento per poi eliminarla lentamente questa è una pratica che come vi dicevo va fatta con la colonna dritta e dovrebbe conoscere un particolare movimento dell'addome che è quello di farlo rientrare all'interno cioè come se risucchiassi non ben dico all'interno far ruotare un pochino gli addominali e appunto far sì che quest'aria all'interno possa muoversi e diciamo che in questo contesto l'aria può ovviamente riempire bene tutto lo stomaco e poi l'aria che dovrà essere espulsa dovrà essere fatta con erutazione l'espulsione non deve essere forzata ma avvenire in modo ovviamente naturali quasi spontaneo senza comunque forzature comunque dovete immaginarvi di bere l'aria poi appunto senza sforzo eruttare l'aria e come vi dicevo dovrebbe essere praticato ovviamente a stomaco vuoto e tanto il corpo in genere ve lo indica da solo che è una pratica da fare a stomaco vuoto perché a stomaco piede non viene nemmeno naturale farlo ecco e questa è una pratica che va appunto ad agire sul sistema gastrico dello stomaco e va sperimentato sempre con molta calma senza fretta tanto in genere è anche un po' spontaneo a volte viene farlo quando non stiamo bene nel stomaco quindi ricordate tutte queste purificazioni sono sempre naturali cioè vanno ad assecondare le esigenze naturali del corpo quando questo non funziona bene è una delle tecniche che viene indicata come segreta perché rende il corpo puro e segreta più che altro per quale motivo perché non è che la conoscono in tantissimi quindi è una tecnica dove in realtà si dice dovrebbe rimanere segreta perché è appunto una pratica che non tutti appunto a cui tutti possono accedere come informazione questa è la segretezza infatti si intende con segretezza quelle che sono poco conosciute è ovviamente una tecnica che diciamo serve soltanto un po' di pratica però bisogna come vi dicevo bisogna dedicarci del tempo per impararla e poi bisogna farla soprattutto quando in questo preciso momento per tutti è abbastanza semplice trovare del tempo per poterla mettere in pratica quindi provate serve solo riuscire a bere l'aria tenere l'aria nello stomaco provare a muoverla destra e sinistra e di nuovo poi ributtarla fuori e è una tecnica che appunto serve appunto al canale digestivo e alimenta come vi dicevo ieri il fuoco digestivo quindi quello che serve per far sì che tutto il corpo funzioni in maniera adeguata e allora io per questa sera mi fermo qui perché voglio praticare e quindi con voi quindi andiamo subito sul sul tappetino domani parleremo di un'altra pratica che questa per esperienza personale io la reputo estremamente invasiva però estremamente purificante quindi è quella tramite l'acqua e la devo spiegare bene nel dettaglio questa bisogna che ci dedichiamo un po' di tempo quindi domani magari la teoria durerà di più anche perché è una pratica dove devo mettere insieme anche una pratica a livello fisico quindi bisogna imparare bene dei movimenti per poter riuscire appunto a fare la pratica di purificazione tramite l'acqua ora andiamo sul tappetino e come sempre una stanza vuota silenziosa allora bene portiamo la gamba destra in avanti la gamba sinistra indietro e iniziamo a muoverci in avanti sollevando il tallone sinistro e indietro sollevando il piede destro inspiro espiro inspiro espiro inspiro in avanti espiro indietro sollevo il piede inspiro in avanti espiro indietro inspiro in avanti espiro indietro inspiro in avanti fermo bene tutti i piedi appoggiati a terra inspiro sulle braccia espiro mi inclino all'indietro senza esagerare inspiro scendo in avanti espiro porto il piede destro dietro tengo bene la coda sullo sguardo al piede ho le mani i piedi ravvicinati inspiro piede sinistro in avanti cerco di tenere le gambe dritte espiro inspiro vengo su espiro alterno inspiro in avanti espiro inspiro in avanti espiro sollevo bene il piede sinistro inspiro sollevo il tallone destro espiro regolo il respiro stasera balliamo di più all'espiro inspiro espiro inspiro espiro inspiro in avanti espiro indietro inspiro mi fermo bene i piedi tutti i radicati espiro svuoto inspiro sulle braccia espiro mi intuino all'interno senza esagerare inspiro scendo mani a terra espiro piede sinistro dietro piedi e mani ravvicinati inspiro piede destro in avanti gamba dritta espiro vengo su piede sinistro di fianco al piede destro inspiro sulle braccia espiro scendo inspiro piede destro dietro espiro piede sinistro subito nel cane a testa in giù inspiro sulla gamba destra espiro piede destro tra le mani inspiro vengo su espiro mani davanti al tetto nel segno della preghiera bene mi fermo nella postura allontano le mani dal petto allontano anche le spalle i gomiti sono alti mantendo la postura respiro inspiro sulle braccia senza staccare il segno della preghiera mi inclino lì indietro espirando ruoto verso destra e mi appoggio bene le mani davanti al petto nel segno della preghiera guardo su verso l'alto respiro respiro mantengo la postura il ginocchio in linea alla caviglia bene le mani davanti al petto respiro inspiro spingo sotto il piede sinistro vengo su mi inclino all'indietro espiro scello mani a terra inspiro cane testa in giù spiro inspiro sulla gamba sinistra inspiro ginocchio in linea vengo su inclino leggermi leggermente all'indietro spiro mani davanti al petto nel segno della preghiera allontano le mani dal petto i gomiti alti belle rotazione nelle spalle mantengo la postura respiro gamba destra dritta allunga lunga bene il piede puntato mantengo respiro inspirando ruoto il busto verso sinistra non sposto i piedi mi appoggio gomito e ginocchio guardo su respiro inspirando ritorno bene sulle braccia senza staccare il segno della preghiera mi inclino all'indietro espiro scendo mani a terra inspiro cane a testa in giù mantengo la postura e respiro inspiro sulla gamba destra espiro voglio far incontrare il ginocchio con l'ascella destra metto la spalla destra in linea al polso spalla in linea mantengo e respiro guardo tra le mani mantengo e respiro il tallone sinistro sollevato inspiro sulla gamba destra espiro ginocchio e ascella si vogliono incontrare inspiro su espiro inspiro su espiro inspiro su espiro un'ultima un'ultima volta inspiro su espiro ginocchio e ascella inspirando di nuovo su espiro cane a testa in giù inspiro sulla gamba sinistra 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 mi raccomando bene la spalla e il polso in linea respiro mantengo la postura il tallone destro sollevato sguardo sguardo tra le mani lingua sul palato inspirando spingo su espiro bene il ginocchio e l'ascella inspiro su espiro il ginocchio e l'ascella inspiro su non fate il movimento se siete in apnea se non state respirando vi fermate e recuperate il respiro ogni volta che inspiro su ogni volta che inspiro ascella il ginocchio ancora una volta inspiro su espiro inspiro su spiro cane a testa in giù inspiro sulla gamba destra espiro piede destro tra le mani inspiro ginocchio in linea vengo su segno della preghiera mi prima e mi indietro espiro mani davanti al petto nel segno della preghiera lontane dal petto vomiti alti inspiro ruoto e spiro mi appoggio mi fermo respiro recupero il respiro sempre con il naso inspiro espiro inspiro espiro spiro spiro sul piede ritorno mi implino indietro espiro mani a terra inspiro sulla gamba destra espiro ginocchio destro ascella destra spiro inspiro su espiro inspiro su espiro inspiro di nuovo su espiro cane a testa in giù inspiro sulla gamba sinistra espiro piede sinistro tra le mani ginocchio in linea inspiro su segno della preghiera mi inclino all'indietro espiro mani davanti al petto l'insegno della preghiera mani lontane dal petto gomiti alti inspiro ruoto verso sinistra espiro mi appoggio e qui mi fermo respiro recupero qui respiro uso il corpo come appoggio e cerco di ruotare bene inspirando ritorno bene su inclino all'indietro espirando scendo mani a terra inspiro sulla gamba sinistra espiro cane a testa in giù inspiro mani bene attaccate a terra cuda su cammino con i piedi verso le mani e da qui ginocchio destro ascella destra e giù ginocchio sinistro ascella sinistra e giù ancora una volta inspiro espiro spiro inspiro espiro talloni a terra bene la coda su addome attaccato alle cosce mani alle caviglie il petto che scende mi chiudo recupero il respiro bene il braccio forte deve esserci la muscolatura attiva quindi mani che mi tirano verso le gambe incrocio le gambe dietro le cosce cerco bene di incrociare le mani espirando tengo i piedi a terra e scendo tutta la pianta del piede attaccata a terra certo di avere le cosce parallele al pavimento mantengo la postura non sposto i piedi i piedi sono ben direzionati in avanti guardo i piedi la lingua è sul palato inspirando allungo le braccia in avanti espirando scendo inspiro spingo sui talloni rimango cosce parallele al pavimento espiro scendo inspiro risalgo espiro scendo bene i piedi radicati inspiro risalgo espiro scendo inspiro risalgo incrocio le braccia dietro le cosce allungo le gambe guardo i piedi respiro dovrei sentire bene il calore all'interno della nuca bene la circolazione che cambia la sensazione di scendere in giù verso il basso guardo i piedi il petto vuole andare verso i piedi respiro sfruttiamo questa sensazione portiamo le mani bene a terra inspirando bene in avanti voglio sollevare i piedi espiro li riappoggio inspiro bene in avanti voglio sollevare i piedi espiro li riappoggio continuo e lentamente mi fermo bene il petto che questa volta vuole andare in avanti vengo su allungo bene le gambe tengo le gambe dritte inizio a muovere la coda in avanti e vengo su inspiro sulle braccia espiro scendo inspiro piede destro dietro espiro piede sinistro che segue cane a testa in giù inspiro sulla gamba destra spiro piede destro tra le mani inspiro vengo su segno della preghiera mi inclino espiro mani davanti al petto nel segno della preghiera lontani dal petto inspiro ruoto espiro mi appoggio guardo su inspiro ritorno espiro riscendo inspiro sulla gamba destra espiro cane a testa in giù inspiro sulla gamba sinistra espiro piede sinistro tra le mani inspiro vengo su segno della preghiera mi inclino espiro mani davanti al petto nel segno della preghiera lontane dal petto inspiro ruoto espiro mi appoggio bene guardo su inspiro ritorno espiro riscendo inspiro sulla gamba sinistra espiro cane a testa in giù inspiro sulla gamba destra espiro ginocchio destro e ascella destra si vogliono incontrare inspiro di nuovo su espiro inspiro di nuovo su espiro inspiro di nuovo su espiro cane a testa in giù inspiro sulla gamba sinistra espiro ginocchio sinistro e ascella inspiro di nuovo su espiro inspiro inspiro espiro inspiro di nuovo su espiro cane a testa in giù cammino con le mani verso i con i piedi scusate verso le mani la coda su spiro e spiro bene scendo petto verso i piedi afferro le camiglie mi chiudo braccia forte respiro piedi attivi e ben direzionati in avanti respiro incrocio le braccia dietro le cosce inizio a scendere certo di avere bene i piedi attivi tutte le dita le cosce parallele al pavimento allungo le braccia in avanti guardo avanti espiro scendo inspiro risalgo senza troppo salire espiro scendo inspiro risalgo espiro scendo inspiro risalgo espiro scendo inspiro risalgo allungo le gambe incrocio le braccia dietro le cosce bene la fronte alle ginocchia respiro devo sentire il calore all'interno della nuca la circolazione che cambia mani a terra ora dobbiamo provare a salire quindi bene i piedi si sollevano l'inclinazione in avanti le braccia dritte senza fretta ogni inspiro si sale ogni espiro togge i piedi a terra ogni inspiro si sale ogni spiro poggia i piedi a terra senza saltare inspiro espiro inspiro espiro continuo e mi fermo bene il petto che scende il crocio di nuovo le braccia dietro le cosce fronte alle ginocchia devo sentire il calore nella nuca continuo a respirare e lentamente sgancio le mani mani a terra piede destro dietro piede sinistro che segue il cane a testa in giù bene mi spingo via da terra guardo i piedi usiamo il respiro quindi l'ombelico che rientra e che esce bene sotto controllo l'addome inspiro riempio espiro l'ombelico rientra inspiro riempio espiro l'ombelico rientra occhi chiusi mi concentro sull'addome intanto cerco di allungarmi bene via da terra gambe dritte l'ombelico bene il calore che abbiamo sviluppato durante la pratica lo portiamo nel respiro e nell'addome piano piano devo sentire che si scioglie che qualcosa cambia la muscolatura dell'addome inspiro riempio espiro svuoto e schiaccio l'ombelico 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 e lentamente portiamo le ginocchia a terra e di nuovo i gomiti al posto delle mani apri chiudo le mani muovo i polsi respiro ripariamoci bene come abbiamo già rivisto in altre lezioni incrocio le mani torsi delle mani a terra mento al petto massima sormità del capo a terra ma spingo sui piedi sollevo le ginocchia e posso fermarmi qui se sto bene con il collo posso anche allungare il braccio destro e il braccio sinistro verso i piedi respiro chi se la sente rilasso un po' le spalle massima sommità del capo a terra il collo non deve farsi sentire respiro ciò che voglio fare è tutto con l'addome inspiro riempio espiro un bellico all'interno dobbiamo iniziare a sentire sciogliersi con l'addome Grazie. e lentamente posso riportare le mani in appoggio spingere sui gomiti guardare avanti cerchiamo di guardare avanti respiriamo cerchiamo di stare bene con il collo il collo non deve essersi fatto mai sentire respiro espiro ginocchia a terra mani al posto dei gomiti inspiro, apro espiro, chiudo inspiro, apro espiro, chiudo ancora inspiro, apro espiro, chiudo e di nuovo riportiamo i gomiti al posto delle mani apriamo e chiudiamo incrocio le mani metto il mento verso il petto massimo a sommità del capo a terra non deve farsi sentire la cervicale l'appoggio sui gomiti la spinta sui gomiti respiro e di nuovo l'addome quello che ci interessa stasera inspiro respiro espiro chi se la sente può allungare le braccia verso i piedi e i piedi alle dita delle mani spiro in l'addome sara e lentamente se ho portato le mani in avanti i gomiti a terra le ginocchia a terra dorsi e i piedi a terra mi siedo sui talloni allungo le braccia in avanti fronte a terra mano destra alla cervicale mano sinistra sopra la mano destra bene faccio un po' di pressione massaggio e lentamente sottolo e vengo su bene mi sollevo sulle ginocchia il tetto verso l'alto inspiro sulle braccia espiro leggera inclinazione all'indietro inspiro ritorno espiro punto i piedi inspiro mi spiedo espiro bene prima su un ginocchio e poi l'alto espirando mani davanti al petto nel segno della preghiera lontane le mani dal petto i gomiti alti mantengo respiro 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 bene spingo sui cuscinetti dei piedi e rimango qui respiro mantengo respiro bene la postura respiro la coda in avanti colonna dritta inspiro spingo allungo le gambe su espiro inspiro sulle braccia espiro scendo inspiro piede destro dietro espiro piede sinistro tra la mia testa in giù inspiro sulla gamba destra espiro piede destro tra le mani inspiro vengo su espiro mani davanti al petto nel segno della preghiera inspiro ruoto e mi appoggio espiro ritorno bene su mi allungo all'indietro inspiro scendo espiro sulla gamba spiro inspiro cane a testa in giù espiro inspiro sulla gamba sinistra espiro piede sinistro tra le mani inspiro vengo su espiro mani davanti al petto nel segno della preghiera inspiro ruoto espiro mi appoggio inspiro ritorno espiro scendo inspiro sulla gamba sinistra espiro cane a testa in giù inspiro sulla gamba destra espiro ginocchio destro ascella destra inspiro di nuovo su espiro ginocchio ascella inspiro di nuovo su espiro inspiro espiro cane a testa in giù inspiro sulla gamba sinistra espiro ginocchio ascella inspiro di nuovo su espiro inspiro di nuovo su espiro inspiro di nuovo su espiro cane a testa in giù cammino con i piedi verso le mani bene la coda su e mi chiudo afferro con le mani le caviglie braccia forti respiro incrocio le braccia dietro le cosce scendo guardo avanti inspiro allungo espiro inspiro ritorno senza salire troppo espiro inspiro ritorno espiro inspiro ritorno spigate espiro inspiro ritorno allungo le gambe incrocio le braccia dietro le cosce la fronte alle ginocchia inspirando guardo avanti bene allungo mani terra inspiro vengo su espiro ancora inspiro espiro inspiro espiro i e ancora i e e lentamente piede destro piede sinistro cane a testa in giù sistema bene la postura umbellico ginocchio a terra gomiti a terra apro e chiudo le mani muovo i polsi preparo incrocio le mani metto al petto massima sommità del capo a terra e su posso fermarmi qui chi se la sente allunga le braccia a дор went a terra aria aria won't perde E lentamente, se ho portato le mani in avanti, vengo i piedi a terra, le ginocchia a terra. Dorsi dei piedi a terra, mi siedo sui talloni, allungo le braccia a fronte a terra. Mano destra alla cervicale, mano sinistra sopra la mano destra, mi salvo un pochino. Srotolo la colonia e vengo su. Ed ora, dopo la pratica, ognuno decide se fuori tarsi a terra o se sedersi gambe incrociate, come si preferisce. Cerco di avere sempre il respiro sotto controllo. Punto di attenzione bene all'ombelico. Prova a sentire l'ombelico che rientra nell'espiro e l'ombelico che esce. Sfruttiamo sempre il calore del corpo, cerchiamo di portare il pollice destro sotto la scella destra e il pollice sinistro sotto la scella sinistra. Solleviamo i gomiti verso l'alto e proviamo a spingere l'uno verso l'altro. Le dita delle mani comunque sotto controllo, quindi bene aperte. Facciamo pressione con i pollici, ma tanto viene naturale. Le spalle le spingo in giù verso il basso. Naturalmente sentirete la muscolatura sotto le ascelle e i pollici che spingono sotto. Apro le dita delle mani sempre sotto controllo, non chiudete i posti. Respiro, non chiudete le mani, ma respiro. Ricordate l'ombelico che si riempie e schiaccia all'interno quando si suota. Riprendiamo bene il controllo dell'addome, parte centrale del corpo. Iniziamo a riconnetterci bene con la zona centrale del corpo. Le spalle spingono in giù verso il basso, i pollici verso l'alto. I gomiti l'uno verso l'alto. Inspirando, allargo i gomiti verso l'esterno sulle braccia. Ispiro, mani davanti al petto, insieme nella priera. Pratica che si può fare anche da coricati, questa con i pollici sotto le ascelle. Quindi ognuno come sceglie di praticare e di desideri dedicarsi un momento di osservazione. Ispiro, namastè. Grazie. A domani mattina con la pratica sul canale YouTube.